Di proprietà popolare della moneta invece di fare il gioppino, perché non parli di auriti della proprietà popolare della moneta, gioppino, gioppino, grillo perché non ne parli più, grillo e allora? Io non ho mai detto di essere contro l'euro, a favore dell'euro, mai contro, ho detto che bisogna informare la gente e poi facciamo un referendum popolare per decidere se stare dentro l'euro o fuori dall'euro. L'Inghilterra non è nell'euro, l'Inghilterra vuole uscire dall'Europa, vuole uscire anche dall'Europa. Già questo sull'euro non ti sei espresso giustamente perché hai detto vediamo con un referendum cosa ne potrebbero pensare gli italiani, ma non è pericoloso perché paesi come la Repubblica Ceca, l'Ungheria piuttosto che l'Inghilterra non ci sono mai entrati, quindi per loro è diverso, noi ci siamo ormai già entrati. Però non ci hanno neanche chiesto il permesso, scusa, ci siamo trovati a fare, intanto… Non è stato sbagliato o giusto, è stato sbagliato o giusto, ma è stato fatto, inutile ricriminare, si doveva fare, ormai è stato fatto, sarebbe stato giusto chiedersi, ma non è stato fatto. Il problema non è l'euro, il problema nostro è il debito, noi siamo già fuori dalla storia. Ma adesso passa questo treno. Abbiamo sentito il personale, come te? No, non è vero il personale, io non sono candidato, io non sono candidato per la poltrona, ricordatelo, allora, avete sentito tutte le cazzate del mondo, è una cazzata, sono un cazzone anch'io, non votatemi, votate il PD, votate il PD, votate il PD e il PD, votate il PD e il PD, grandi, sarete grandi nella storia. Che tu mi parli di comunità, quando hai detto che del ponte non abbiamo bisogno, e hai perfettamente ragione, perché noi con i calabresi non abbiamo niente da fare, è sbagliato, è sbagliato. L'ultima cosa, a voi non toccano i rimborsi elettorali e dite la verità alla gente, perché lo Stato italiano dal dopoguerra, i partiti hanno uno statuto, voi siete un gruppo civico a cui non toccano i rimborsi. Stai dicendo una fesseria, stai dicendo una fesseria, scusa, per un po', per un po' ti ho seguito, ma questa è una fesseria, è una fesseria. Allora, a noi non ci toccano i rimborsi, allora, alle regionali ci toccavano un milione e quattrocento mila euro. Diete, non avete saputo, non avete saputo, Beppe, che fai, mi ignori, mi ignori. Sì, è bellissimo, questa è bellissima, un po' di contrasto. Beppe, mi stai ignorando, mi stai dicendo la parola. No, 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 sto parlando con un'altra persona. Beppe! Beppe! Che andiamo a fare, Beppe! 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 Sto esodando, senza stipendio! Che andiamo a fare, Beppe! Beppe! Occhio, occhio, occhio! Beppe! 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 La prima cosa che facciamo, donando il voto a casa mia, la prima cosa che facciamo, partiamo il reddito di cittadinanza, ti ha perso il lavoro, ti arriva subito la prima cosa. Peppe, vaci in televisione, vaci in televisione, ti diamo un tempo, tre anni, con un stipendio per tre anni, per cercarti qualche cosa. Tu hai in mezzo alla strada, beh, senza marito. Peppe, vaci in televisione, c'è i colleghi miei che sono in città.